provate infatti un attimo a fermarti mi ha sentito tutta la vittesa perché lì distinto ti viene da invece di calarti di modo che appoggi come è che dicevi? bravo, ali Paolo ali io posso farlo in giro dai deciso dai dai ali dai 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 Paolo ali 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 dai 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 deciso ali 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 dai 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 bravo paolo deciso quando parte dai 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 bene coi piedi bravo ok